funzionalità successiva che voglio registrare è quella del filtrare rispetto al valore selezionato della cella selezionata naturalmente quindi naturalmente lancio di nuovo i registratori di macro perfetto e poi inserisco filtro cella selezionata in questo modo premo naturalmente invio vado a cliccare su una voce della tabella per esempio questa e poi e poi naturalmente utilizzo il comando apposito che immagino tu già conosca e che trovi naturalmente nel menu contestuale che è comparso appunto utilizzando il tasto destro del mouse tra le varie voci troverai filtro il menu filtro fondamentalmente nel menu filtro troverai diversi comandi quello che ci interessa a noi naturalmente è filtro in base al valore della cella selezionata clicco con il pulsante sinistro è perfetto e come vedi fondamentalmente è stata filtrata tutta la tabella e viene mostrata unicamente il record perché naturalmente ce n'è uno solo comunque i record che contengono il valore in questione ok fermo la registrazione ma continuiamo ancora a registrare un'altra macro un'altra macro che potrebbe essere per esempio la rimozione dei filtri e come facciamo naturalmente clicchiamo sul pulsante registratore di macro e andiamo a intestare questa macro per esempio rimuovi filtri in questo modo perfetto clicco su ok e per rimuovere i filtri nel realtà ci sono vari modi noi utilizzeremo il comando predisposto per esempio il comando che puoi trovare tra le altre cose qui nella scheda dati della barra multifunzione trovi appunto in ordine filtra il comando cancella non faccio intanto che cliccare su cancella e come vedi il filtro è stato disapplicato da excel stesso il passo successivo naturalmente è fermare il registratore quindi clicco di nuovo sull'icona qui in basso a sinistra e abbiamo registrato altre tre macro adesso andiamo a vedere macro che abbiamo registrato ok siamo tornati nel viso basic editor e come vedi abbiamo altre tre macro la macro rimuovi riga che fondamentalmente è molto semplice come naturalmente la prima abbiamo la macro filtra cella selezionata che questa volta invece è un po più complessa più complessa perché perché fondamentalmente come puoi vedere il comando autofilter che è il comando del filtro automatico ebbene ha dei parametri e questi parametri come vedi sono dichiarati e sono fissi quindi bene la prima cosa naturalmente andare eliminare la prima dichiarazione che fondamentalmente è rivolta a una cella selezionata questo perché perché voglio utilizzare questo comando su qualunque cella selezionata il primo parametro che trovi dopo autofilter field campo indica la colonna che contiene la cella che abbiamo selezionata e utilizzata ok come vedi la colonna è dichiarata come un numero 2 perché perché abbiamo utilizzato la cella della colonna 2 come facciamo a fare in modo che questo possa venire nella selezione ovunque ok sostituiamo il 2 con una semplice dichiarazione che indichi semplicemente la colonna selezionata ripeto la colonna selezionata se io traduco queste parole colonna selezionata in inglese naturalmente nel linguaggio vba cosa ottengo ottengo selection punto column selection è selezione ok e column è colonna fondamentalmente quello che ho scritto è una dichiarazione che si rifà un oggetto specifico qual è questo oggetto la colonna in particolare la prima colonna della selezione visto che noi abbiamo selezionato una cella e naturalmente è la colonna che contiene la cella il passo successivo naturalmente è quello relativo al criterio come vedi qui il criterio era il valore all'interno della cella fornitore 054 come faccio a renderlo flessibile ebbene nello stesso modo allora prima cosa lo riporto nella stessa riga ok in questo modo e poi vado a sostituire fornitore 54 fra virgolette perché è una stringa naturalmente con il valore presente nella cella che noi abbiamo selezionato selection punto value excel sa sempre dove sono gli oggetti quanto sono grandi dove sono disposti eccetera eccetera sempre tutto per quello che riguarda appunto l'ambiente ok quindi gli oggetti come sono disposti le pagine eccetera eccetera selection fondamentalmente è una proprietà che restituisce la selezione in particolare le celle selezionate noi possiamo fare in modo che excel ce lo dica utilizzando appunto selection e value e valore fondamentalmente è una proprietà e indica il valore contenuto nella cella selezionata ok spero di essere stato chiaro in questo modo abbiamo fatto una modifica del codice una modifica che sembra complessa ma non lo è ti ho mostrato in realtà come è possibile utilizzare il linguaggio vba semplicemente diciamo traducendo quello che sono le espressioni ciò che vogliamo realizzare in parole e da queste parole traducendo appunto dall'italiano in inglese e dall'inglese al linguaggio vbh e naturalmente le sue regole